Oggi vorrei condividere con voi un argomento affascinante e molto interessante, gli investimenti in lingotti d'oro. Come gioielliere esperto, ho promesso di trattare diversi tipi di investimenti. Un modo per diversificare i propri investimenti è considerare l'acquisto di lingotti d'oro fisici. È possibile acquistare lingotti di diverse dimensioni e pesi, dai piccoli da un grammo ai grandi da 12,5 kg. L'oro è un bene prezioso e può essere un'ottima aggiunta al proprio portafoglio di investimenti. Una delle domande comuni riguarda l'IVA sugli acquisti di lingotti d'oro da investimento. È vero che l'acquisto di lingotti d'oro per investimento è esente da IVA. Pertanto, potete acquistare i lingotti direttamente da una zecca o un sito affidabile senza dover pagare l'IVA. Una delle ragioni per cui alcuni investitori preferiscono i lingotti d'oro fisici rispetto a certificati o piattaforme online è la sicurezza e il possesso fisico del bene. Potete conservarli voi stessi o farli custodire da una società specializzata. Inoltre, potreste anche utilizzarli come regali speciali o crearne gioielli personalizzati. È importante notare che l'investimento in lingotti d'oro richiede cifre più consistenti, ma può offrire opportunità di guadagno nel lungo termine. È possibile acquistare lingotti con cifre anche piccole, ma per ottenere risultati significativi, è consigliabile considerare un investimento più consistente. Diversificare il proprio portafoglio con lingotti d'oro può essere una scelta valida per ridurre le commissioni e ottenere un bene fisico con valore intrinseco. Ricordate sempre di informarvi e prendere decisioni consapevoli in base alle vostre esigenze finanziarie e obiettivi di investimento. Se avete domande o desiderate approfondire ulteriormente l'argomento, non esitate a chiedere. Sarò lieto di aiutarvi a comprendere meglio le opzioni di investimento in lingotti d'oro.